L'inferno è caduto a causa di Herobrine. Sono state corrotte tutte le dimensioni e presto si paleserà quando la notte calerà. Con la caduta dell'inferno, oscure creature sono approdate nella nostra dimensione, coloro che servono soltanto al grande Herobrine. E noi cacciatori di demoni, figli di Dio, siamo qui per sconfiggere questa entità malvagia, fino ad arrivare all'obiettivo principale, uccidere Herobrine. Questa scrittura non si capisce un cazzo, però è della modpack, non vi lamentate con me. Ma tutto ciò ora non è possibile. Non abbiamo le attrezzature né ottime conoscenze degli antichi testi per sconfiggerlo. Prima di tutto dobbiamo garantire sicurezza a noi stessi e prepararci per ogni evenienza. Tutte le attrezzature che disponeva la grande chiesa sono state distrutte da un incendio causato da un demone. Insieme ad esso tutte le grandi scritture antiche, con la conoscenza e sui punti deboli di ogni singolo nemico. L'ordine dei cacciatori nell'ultimo secolo ha avuto un grande declino e con esso anche i decessi dei più grandi cacciatori. Ma non possiamo ora permetterci di avere paura o di mollare, perché siamo gli ultimi cacciatori rimasti. Ci sono delle regole da seguire. Uno, rimanere sempre insieme. Due, interpretate il vostro personaggio nel metodo più corretto possibile. Tre, seguire correttamente la storia. Quattro, potete dormire soltanto nella casa dei cacciatori, almeno che non abbiate trovato lo zaino, che potete mettere appunto in letto. Cinque, la storia continua soltanto se tutti hanno completato il capitolo in corso. Non sappiamo chi c'è là fuori. Prima che cala la lunga notte bisogna costruire rapidamente la casa cacciatore. Non perdete tempo. Ok. Più volte, eh. Più volte, più volte. Ma è Danilo. Più volte? Adesso dobbiamo prima costruire la base. Lo sapete bene cosa c'è, soprattutto chi conosce la moda. La cappella sistina. Porca puttana, ho preso la re... Mamma, sono ancora in modalità creativa. Io so solo che ci vende... No, sotto, sotto, anche l'ultimo. Se lo taglia tutto l'altro. Ah, ok. Non lo sapevo questo. Quanto legno servirà, secondo voi? Beh, dobbiamo fare una base abbastanza decente. Dani, che cazzo ho combinato? Per sbaglio ho messo la roba. Potremmo fare una crafting table, cosa ne pensate? Eh, l'ho fatta, l'ho fatta. Ah, l'hai già fatta. Ok. Che figo! Hai visto? Eh, eh. Questa cosa funziona anche col VR. Chi è che è bravo a costruire? Io. Tieni. Eh, Dani. Dani è veloce, cosa riesce? Posso fare un piccone? Teoricamente sì. Le prime trappole. Allora, noi abbiamo completato la prima missione che dice non sappiamo chi c'è là fuori. Prima che cada la lunga notte bisogna costruire rapidamente la casa. E questa l'abbiamo completata. Adesso abbiamo sbloccato altre missioni, però sono un po' più complessi. Deve di fare quelle iniziali. Le prime trappole, quella a sinistra? Sì, quella è più facile da fare le prime trappole. La difesa è la chiave, quindi migliora... Migliora... Miglior cosa. E proteggere la... L'ho scritto io, penso, manco so leggere. Quindi la miglior cosa è proteggere la propria base. Quindi ci serve... Quella è stata 100, vale? Sì, e poi l'altra dello zaino. Facci le trappole, facci le trappole. Ma non ci conviene fare un altro piano? Perché qua, secondo me, rischiamo... Che ne dici di qua? Sì, sì. Eh sì. Io faccio le trappole nel mezzo. Vai con quattro legno. Forse devi averlo... Ah, devi averlo in mano prima di buttarlo, ok. Ok, ci ha dato altre armi. Ce ne abbiamo 24. Tieni. Le metto io? Eh, so, più che a te l'aspetta prima di metterle. Allora, un'altra invece... Magari aspettiamo per la notte, sì, sì. Ora arriva la notte, quindi dobbiamo fare attenzione. Meno male che giorno. Oh, cos'è stato? Cos'era? Dentro, dentro, dentro. Che ragazzo c'è? Mettere trappole, mettere trappole. Entrati tutti. Ma dobbiamo fare una miniera, Daniel. Eh, ho sentito uno. Ottimo. Chi è? Non nemmeno io assieme. Cos'è? Salto di qualità. Che hai trovato? Eh, ho fatto il piccone in pietra. Ah. Eh, mi sa che qualcuno deve andare a scavare, ragazzi. Eh, faccio io. Però, ricordatevi, dobbiamo stare insieme, quindi devi portarti sempre qualcuno. Grazie, eccomi. Ho detto, no, niente, chiamavo Ben per andare qua. Andiamo, quindi? Io andrei. Dovevo trovare un po' di mietro di una notte. Che cosa è questo rinforzo? Ma che cazzo è sta roba? Ma questo è l'ascio. Ma è uguale a piccone. Come la porta si è chiusa da sola? Come la porta si è chiusa da sola? No, ero io, ero io. No, non c'è da sola. Che succede? Ma è vero, si è chiusa da sola. Come si apre da sola? È vento, tipo. No, no, non c'è da sola. Andiamo via, se sei. Nel dubbio... Sei un clown, sei tu. Ma com'è? Io non l'ho vinto sta cosa. Fami vedere. Voglio vedere. Voglio vedere. Guarda, apre la porta. Ci siamo. Adesso non succede niente. È vero, Franca. Franca, Gimbetto, ma sei tu? No, Franca. Chi c'è? Ma è quel caglione di voi. Dai, amazzate il culo. Non state facendo niente di utile. Franca, le hai fatte le questioni? Le fa automaticamente adesso, andate. Deve solo riscattare la roba. Si vede un cazzo, posso dirlo? È dolce, dolce. L'ho messa. Cosa hai trovato? Vaiù, è notte. È notte, è notte, è notte, è notte. Ho barricato perché... Oh, Franca, corri, corri. Oh, Franca. Ho barricato, ho barricato, ho barricato. Sì, sì, ho barricato. Sì, ho barricato, sì, ho barricato. Sì, io ho barricato. Aprite le porte, aprite le porte. Vede l'altro, un po' di cui sei al palco. Vaiù, che cazzo è? Oddio, è vero. Oh, raga, ma che cazzo avete preso davanti qua? Togli, togli. Guarda, le pelle, visto quello che è stato con un aereo? Raga, scavate sotto e vedete sotto. Guarda, hai idea di quanto notte? Addio. Vabbè, non è la notte pericolosa, dai. Poggio, giù. Ne sei sicuro? Raga, la musica di un nemico è vicino. Guardate. Mi va a poggiare. Quasi sbagliare. Oh, oh, oh. Aio, via, via. Porca. No, sorragni, sorragni, uccidiamoli. No. Ok, ho ucciso. Carbone. Oh, chi è? Occhio. Occhio. Dove sono tutti questi mostri? No. Eh, la musica non aiuta, però, posso dirlo? Eh, non lo... Aiuto, aiuto, ben. Liberami. Porca put... Ben, libera. Spacca la piedra. Ah, bene, ce la faccio io. C'è stato anche il piccolo. Oh, ho trovato qualcosa, vai giù. Regà, finché non facciamo le dicevi, non è enorme. Oh, sto qui, con l'inverno. Oh, vai giù, ma che? No, vai, io sono... Non vedo niente, non vedo niente. Aiuto. Aiuto, aiuto, Carlo. Aguto, aiuto. Tutte le cose. Aiuto. No, no, no. Oh, cazzo. Ma io è pieno di mossi qua dentro. Porca troia. Ma che si fa? Sto girando. Ma che neve? Ma forse è un mostro buono può essere? Sì. Eh, questo è... Ah, è un granchio. Ho trovato un pozzo. Non c'è cibo qui, eh? No. Ah, dobbiamo ripararla. Per prendere l'acqua. No, ripare il disincanto. Non mi dobbiamo riparare. Ah, ho letto male, scusa. Oh, un'orgia sta arrivando. Che cazzo, che cazzo. Aspettavo, non mi aspettavo, no? Guardate, non c'è sta strada, è cazzo. Oh, guarda, guarda, mi salta. Salta, salta, Giro. Corri. Adè, quanti ne sono? Aiuto. Adè, non si può scendere, dai, madonna, sa. Sono un nano armato. No, è il nano. Ma come stai scegliere la razza? Non è un po' a sto cazzo. Ma no, stiamo scherzando, mica c'è la razza. La ceste. Oh, c'è qualcosa. Eh, è ben genutato, è ben genutato. Qua c'è l'alveare che vi dicevo, ho messo sotto il campfire. Eh, è solo che non possiamo prendere. Eh, ci serve il vetro. Non c'è altro. Magari dopo... Ah, un'altra gallina. Vabbè, non ci interessa. Che è questo suono? Dove, dove, dove? Eh, qua. Ma è noto o è giorno? Funghi, qua, funghi, venite. Prendiamoli. Ci servono quelli di colore. Questo e quelli rossi. Ok. Chi ha preso tutti i funghi? Tu, Daniel? Ma dove andiamo? Torniamo indietro o volete prendere l'animale? Oh, c'è una mucca. C'è una mucca. Prendiamo. Salve, a chi la porta? Io, io, io. Ok. Eh, non c'è niente, abbiamo visto prima. No, non c'è lino quello. Non c'è nulla, è stato sicuro. Non ho accolto dentro. Vai, vai, tranquillo, ti proteggemo noi. C'è piccola. Prendi la tua ora. Come si prende? Shift, right click. Con la mano vuota. Anche la sinistra. Non me lo fa fare. E anche la sinistra vuota. Oh, dietro, dietro! Guarda. Andiamo, andiamo, andiamo. Vai, andiamo, andiamo. Attenti, attenti. Correte, correte. Correte, correte. Prima il CTRL, puoi correre. Dov'è la casa, adesso? Ecco, siamo tornati. Eccola, eccola. Chiudi, andate. Non è stessato, non è stessato. Cazzo. È partito muro. Ma guarda che cazzotto, ha un festino. La carne. Hai una spada. Guarda, guarda. Trissi. Vai giù, andiamo, dai. Vai, è possibile. Ma sì, che è possibile. Ma datemi una mano. Tu devi fermare gli acci, capito? Quello ci rompe un po' i coglioni a noi. Ma porca puttana mia, ha sparato, che sto nell'altra parte della mappa. Ma non, però, non preoccuparti. Ma il cazzo del nando. È ingiocabile così, ah. Non mi ricorda. Stavo dicendo, andiamo a perdere. Vi ho portato una bella cosa. Tieni, scipo. Tieni, Carla. Oh, ma che cazzo ti ha coppito? Ragazzi, ma fermi con il mistero, andrà. I miei compagni di squadra sono un po' morti. Ma io sento... Ma io sento una musica strana. Ma io, che cazzo è? Ma io ho sentito un animale. Ti ho sentito? No, ho sentito un ruggito. Eh. Ruggito. E dai, porca puttana, in là, mi hanno fatto cacca in mano. Quella, quella, quella. Oh, oh, aiuto, sono solo. Sto seguendo qua. Scipo, corri. Scipo, prima che torna qui. Cos'è? Cos'è? Non toccato, non toccato. Non toccato. Ma dov'è adesso quello? Mi ricorda che è lì, frago. Rimane lì? No, 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 scopo. Ah, ok. Ho trovato ferro, ho trovato. Ferro, ferro, prendo io. Prendiammi te, se vuoi. Eh, beh, certo. Ho trovato altro, altro ferro. Ci sono. Ma avete anche, anche voi sentite uno. Eh. Mi sembra uno zombie, quello. Prato, sei tutto cacato in mano. Non fare così, perché ci blocchi, è peggio. Perché se ci vieni da dietro ce lo metti a culo. Facciamoci un minibox, se proprio vuoi, Danny. Eh, bravo, bravo. Fai, c'è il ferro qui. Aiuto. Però la riempa qua. Eh, quello ti giuro lo fanno cacare in mano, perché giustamente sono uno tanti comandi. Due, dove cazzo dobbiamo andare ora? Eh, chi si chiude buco, mannaccia miseria. Ma chi lo sai? Ma hai tappato? Come no? Ma chi è che ha tappato? Mario, ma poi mi sei come 0-9. Sicuro? Eh, qua lì. Oh, vai, vai. Oh, oh, oh. Come l'hai lasciato solo a me? Che cazzo è? Vai, io, corri! Cos'è? No, non lo so, non lo so. Mi è uscito in faccia e mi so... Ma tu sei scemo, sei! Ho fatto una quest. Oh, ho completato la missione. Mi sono fatto l'armatura. Oh, otto lingotti di ferro. Rame e oro, ragazzi. No, no, vai, vai! Ragazzi, qualcosa di gigante della ferra. Che cazzo è quel gigante? Vado, no! No, no, no. Che cazzo era quel cos... Chiudi Gesù Cristo nell'anime di Cristo No ma aiuto No E' qui Ragazzi Ragazzi sto giù Aiuto ragazzi No No è il cibo Il cibo Che meno male che stava puntando a me Ragazzi Meno male lì animale c'è Esatto Oh no E' sopra vedi l'ho messa nelle casse Comunque quel cosa che correva Tu non hai visto quello che abbiamo visto noi Io ti giuro su dio Io sono rimasto immobile lì Perché ho visto che seguiva loro Quello scarafaggio rosso lì Ma Era a questo momento che sa Che si è f***o Cosa dobbiamo fare No No Ho detto la persona la base Abbiamo fatto Allora 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 Allora